Abbiamo voluto sfruttare questa settimana di attivazione per portare alla luce due temi fondamentali. Uno appunto è quello delle qualità di genere, che abbiamo voluto affrontare con una sorta anche di provocazione, ma un punto sensato, quello dei bagni gender neutral, quindi senza distinzione di genere. E l'altro è quello del costo degli assorbenti. Noi insieme a questi cartelli di bagni neutri abbiamo proprio a posto delle tampon box, dove persone che volevano potevano lasciare prendere gli assorbenti, perché riteniamo che debbano essere gratuiti. Un'iniziativa per la gender equality, quella del bagno neutro all'interno dell'Università di Pisa. Parte da una lista universitaria, a sinistra per l'Università di Pisa sposa questa iniziativa, ma parte subito anche la polemica. L'ex ministro Matteo Salvini definisce gli studenti pisani ridicoli, ma loro non ci stanno e rispondono. Noi da un lato siamo certamente contenti che l'università si sia mostrata aperta da questa direzione e ci impegneremo, come ci siamo sempre impegnati e stiamo facendo anche ora, per fare in modo che tutto questo processo venga attuato nel migliore dei modi, dalla mappatura dei bagni all'esecuzione poi attiva della realizzazione di questi bagni neutri. A chi ci dà dei ridicoli noi vogliamo sottolineare in primo luogo che un'attività del genere non può essere ridicola dal momento in cui va a tutelare dei diritti legati alla sensibilità individuale è un tema che vediamo attuale ma che deve essere sempre considerato che è quello del genere, dell'identità di genere e dell'anche benessere psicologico delle persone.